Chi gli darà da mangiare? Katrin, dobbiamo portare con noi anche il coniglio, se riusciamo a trovarlo. Tu l'hai visto da qualche parte? Katrin! Ferma, sta ferma, non muore così, è peggio! Sta ferma Katrin, ferma, non stia agitare, te lo tolgo io! Aspetta! Ti prendo da bere! Ti prendo da bere!